La borsa di New York, ieri, è rimasta chiusa per il Washington's Birthday Sulla parità il Nikkei è 225, più 0,1%, come l'indice cinese, meno 0,07% Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Composta Francoforte, che cresce di un modesto più 0,33%, Fiacca Londra, che mostra un piccolo decremento dello 0,22%, sostanzialmente invariato Parigi, che riporta un misero più 0,03%, peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto alimentare, che riporta una flessione di meno 0,51%, frazionale ribasso percentrale del latte d'Italia, che scambia con una perdita dello 0,74%. Si attende stamattina dal Regno Unito la diffusione delle richieste del sussidio di disoccupazione e del tasso di disoccupazione. In Germania ancora stamattina i mercati sono in attesa dell'indice di ZEF? È previsto giovedì ancora dalla Germania l'annuncio dei prezzi al consumo There we go. Grazie a tutti.